Chi ha vinto? Tra Sony e Microsoft, questo è 3. Cazzo, sì, guardate che grafica. Da 2001. Un capolavoro, Halo Infinite. Sembra uscito da Xbox 360. Ma che dico? Proprio da Xbox. Zio Bill sarebbe fiero di voi. 3 for 3. L'innovazione vera è il rampino qui dentro. Meccanica mai fista in un FPS, eccetto per Titanfall, Bulletstorm, Red Memory, Nightlight e Call of Duty quando li girava. Tappami! No! Voglio morire! Voglio morire! Introduciamo PS5. La console con il design di un rinale, alta quasi quanto un ventilatore a piantana. Oggetto di design imprescindibile se abiti in un'astronave del 2055. Chiudo. Bill Gates diceva Grande console significa grandi giochi. Introduciamo Bug Snacks. L'esclusiva Sony che tutti aspettavamo. In tutto questo delirio di console war che interessa solo al nostro caro Suka Mike, abbiamo finalmente una data di lancio per un titolo che fino a qualche anno fa sembrava un Vaporwave. Sto parlando di... Cyberpunk! Speriamo che sia un ritorno al vero GDR Immersive Sim stile Deus Ex. Non come questo. La grafica è sempre interessante, seppur con un downgrade perché ovviamente devo uscire anche per One X. Xbox One X, the most powerful console ever made. Eppure c'è la gente che aveva comprato One X per giocare al meglio proprio Cyberpunk 2077. Ha un sistema di combattimento bellissimo. Sembra un titolo FromSoftware per PlayStation 1. Eh, per fortuna non è solo quello. Ha un'atmosfera cyberpunk pura. Attenzione ai dettagli. Promette bene, dai. Nonostante tutto nel complesso promette bene. Lo attendo per davvero ragazzi, non sto scherzando. E forse è il titolo più importante di questo E3 2020. Zitto e beccati i soldi. Ora parliamo di Ubisoft. Come non detto, scusate. So bene che a nessuno ho fatto di un'azienda sessista, misogina, omofoba che maltratta i propri dipendenti. Scusate solo se ho accennato il nome Ubisoft. Bethesda. No, no, è vero. Ci ha presentato qualcosa. Credo che ha presentato qualcosa. Credo che abbia presentato Deathloop. Un titolo in esclusiva temporale PS5. Che ha una grafica e un sistema di gioco bello quanto Dishonored nel 2011. Scherzo. È totalmente diverso da Dishonored. Cazzo, ci sono le pistole. No. Voglio morire. Voglio morire. In tutto questo delirio di depressione e scontentezza per questo E3, abbiamo i gatti cyberpunk. E poi, una domanda che mi faccio. Io volevo un nuovo capitolo di Tony Hawk. Mi sa che vi siete leggermente sbagliati o confusi. È vero che Hawk in inglese significa falco. Ma io non volevo un gioco di skate con degli uccelli. Quello è Ray Tracing. Quello è Ray Tracing. Non mi dire no perché... Poi abbiamo questo gioco. Un robo che salta. Come cacchio si chiamava? Pip Boy? Fuck Boy? Suka Boy? Ehm... Ah, sì! Suck Boy! Voglio morire, bambazzo! Dai, per fortuna il versante platform nella next gen si farà sentire bello forte con dei bei titoli. Ovvero Crash 4, Psychonauts 2 e Ratchet & Clank che ci ha mostrato, voi non lo sapete, ma mi ha mostrato in anteprima, la meccanica cardine che sarà di tutti i titoli PS5, al pari dello squeeze che abbiamo visto nei titoli PS4. Fidatevi di me. Nella next gen vedremo un sacco di titoli PS5 con portali e tunnel per sfruttare appieno l'unico modo in cui si può sfruttare un SSD. No! Voglio morire! Voglio morire! Altro titolo spacca macella per la console Sony in arrivo è Little Devil Inside. Guardate che grafica! Una grafica così all'avanguardia che sembra un gioco uscito per Wii U. Aspetta. Era un titolo per Wii U. No! Voglio morire! Voglio morire! Però dai, cazzo! Cavalchi dei pinguini nel deserto! Cioè, queste gotie! Zitto e beccati i soldi! Poi c'è chi ha notato dei neri che si fanno le canne. Non so quanto siete razzisti per notare una cosa del genere in questo trailer. Dolora che esca anche un altro titolo PS5. Cioè, PS5, bombe una dietro l'altro in questo E3. E non scherzo, eh! Perché il prossimo titolo che vi mostrerò è The Extrusion All-Star. Altra killer application di Sony. Ho sempre, vi giuro, vi giuro, ho sempre desiderato poter giocare in un competitivo online come The Extrusion Derby dove puoi uscire dall'auto e come in GTA andare a rubare altre auto putande per la pista. Grazie Sony! E non scherzo, voglio di più di questi capolavori videoludici. Cazzo! Sony, dimostrami anche te che sai fare titoli belli e divertenti e non i soliti giochi deprimenti da tagliarsi le vene, dai! Diablo 4 Nell'ultimo periodo non riesco a distinguerlo da Dynasty Warriors. Genere che comunque io amo, eh, sia chiaro. Poi, cacchio, in Diablo 4 puoi essere un orso. E usare un cavallo. Zitto e beccati i soldi! Spider Black DLC In arrivo per PS5 Se è figo anche la metà precedente sarà un must have di questa generazione. Peccato che non solo DLC Ci sono un po' sforzati. Voglio morire! Voglio abbassare! Overwatch 2 Avrà nuovi personaggi Speriamo ci sarà anche lui Soprattutto lui Vediamo di rimetterci Sinceramente ignoro, non mi interessa più di tanto Ma era giusto includere una lista dei momenti salienti dell'E3 Ma già è fallito Overwatch Già i server vuoti? Eppure sono abitato che Counter Strike Go è ancora lì da anni Comunque scherzi a parte Ho scherzato fino ad ora ma Lo sappiamo tutti, dai Quello che vogliamo davvero dalla next gen Bugsnax Bugsnax In arrivo anche una remaster Della remaster Della remaster Che fu fatta del gioco remaster Di Tony Hawk Ma che cazzo stai dicendo? Ci hanno buttato anche in mezzo il 2 Perché sai Ormai sono passati così tanti anni Che forse Tony Hawk non si ricorda nemmeno Qual è il titolo Dei due più amato Dei suoi fan Com'è? Tony Hawk Dai non ti ricordi Non ti ricordi qual è Ovvio Tutti noi amiamo il 5 Ma smettilo Tu fai un spiritoso Dai li fai per bene questo Chuck Forza Ancora remaster Pure in questa generazione Veramente Due coglioni di remaster Però dai Stavolta la remaster È una roba che io voglio A tutti i costi Finalmente Ora che ho capito Come si giocano i Souls-like E mi sto appassionando del genere Finalmente esce Il capo stipite De questo genere In versione remaster Ovvero Demon's Souls Vi prego Vi prego Non fate la cacata Di Dark Souls Remastered Vi prego Vi prego Vi prego Non fatelo Non fatelo Parliamo seramente Abbiamo di nuovo Due conferenze Che viaggiano Su due canali separati Abbiamo Microsoft Che come tafazzi di annata Continua a massacrarsi i maroni Mostrando la conferenza Se stessa al peggio Ovviamente il titolo Più atteso Da tutto il mondo Dove Avevano tutti gli occhi Puntati Su Xbox Series X Per capire La potenza Bruta Grafica Di questa console E cosa mi mostrate Da pazzi Passa la vita A spararsi Delle canonate Sulle Vedete che lo porta via Invece D'altro canto Abbiamo una Sony Molto furba Che ci ha mostrato Ratchet & Clank Solo nelle parti Che doveva mostrarci Dove c'è L'effetto Wow O mettendo le parti Che ovviamente Un po' più D'altro canto Anche Sony Non scherza C'è da dire In questa E3 Ci ha fracassato Veramente i maroni Con sto cazzo Di Bugsnax Ficca Tra super il culo Quella cazzo Di fragolina Se l'hai con me 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 Sì che ce l'ho con te Levati dai coglioni Bugsnax E poi dobbiamo anche analizzare Il fatto che Come al solito Abbiamo il classico Modus operandi Della fagiolata Che non fa capire Un cazzo Di Sony Che ovviamente ha fatto passare Titoli third party Come Hitman 3 Little Devil Inside Pragmata E molti altri Come first party Cioè li ha fatti passare Che possono essere giocati Solo su PS5 Ragazzi Fidatevi Che questi titoli Arriveranno anche su PC E molto probabilmente Anche su Xbox Series 6 Non sono first party Mentre dall'altra parte Ovviamente c'è una Microsoft Totalmente Tafaziana All'inside Xbox Ci ha mostrato Quei titoli Come third party Ufficializzando che erano Third party Seppur A differenza di Sony Aziende come Ebb Software Con il suo Scorn O il creatore di Bright Memory Daranno priorità Nello sviluppo Alla console Microsoft Come obiettivo Per la versione migliore Del titolo Che avremo tra le mani Siamo Al momento Cruciale Chi ha vinto Tra Microsoft Da pazzi È Marchese Sony Del grillo Dai lo sappiamo tutti Ma Nintendo Cazzo Switch Con i suoi indie In esclusiva E se non sono in esclusiva Puoi giocarli Al meglio Solo su Switch Ma avremo anche Dragon of Zelda Breath of the Wild 2 Switch Pro Donkey Kong Himalaya Hit Splatoon 2077 Mario Kart 9 Mario Odyssey 2 Luigi Mansion 4 Penguin Direttamente dalla Gamecube Versione Deluxe E Metroid Prime 4 Rimandato di nuovo Voglio morire Mi voglio ammazzare Voglio morire Mammazzo Mi voglio morire Grazie a tutti.